Vero anche che un po' di ripresa c'è, molto debole, noi ci aspettiamo che in ogni modo, come dicevamo prima, un po' di manovra all'elettroshock perché questo paese che ho visto i dati l'altro giorno, prospettiva di PIL all'1,3% e si attesteranno su questi circa a fine anno senza edilizia non può superare questo dato perché l'edilizia è un indotto talmente largo che non può in ogni modo generare altro lavoro e se noi prendiamo ad esempio un'abitazione colpisce un indotto da chi fa gli impianti elettrici, impianti meccanici a chi fa il muratore, al pavimento in legno o ceramica ma è talmente larga che in ogni modo è un indotto che genera veramente tantissimo fatturato e PIL Ma come l'elettroshock lei cosa intende? Quale sarebbe l'elettroshock? L'elettroshock c'era il piano case fatto anni fa proposto dal governo Berlusconi, adesso magari non una cosa del genere che è una cosa abbastanza larga perché io credo che sia nei numeri e nel modo non fattibile, pensato allora come era stato fatto ma agganciandolo sicuramente a una rigenerazione per quanto riguarda l'antisismica, creando delle premialità a chi demolisce una struttura cioè abbiamo un edificio, siamo in un condominio, siamo in quattro, vogliamo ricostruire casa, utilizziamo il bonus sismico per demolirla a quel punto magari ci attacco una premialità perché posso fare un piano in più dove quel piano in più mi serve o a inserire i figli o a cercare di vendere quel pezzo di piano in più per poter riuscire a rifare la ristrutturazione perché senza questo in ogni modo io credo che si faccia fatica a parlare solo di riqualificazioni di periferie perché riqualificare le periferie vuol dire colpire le grandi imprese e non toccare anche le piccole imprese l'Italia è fatta di piccole imprese e senza questo secondo me non riusciamo a rifarla a partire Grazie